Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ti amo con la tua volontà. Vieni, Divina Volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà. Regina Immacolata, Celeste, Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti che i sospiri più ardenti che mi ammette a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la Leggina di questo Regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, Sovrana Leggina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel Regno del Volere Divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai la mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre, ti canto una preghiera Quella che tuo figlio ci ha insegnato per amore Noi ti gloria Noi ti gloria Che io ti chiamo Noi ti gloria Che io ti chiamo mi chiamo Padre nostro che sei Nei cieli, dacci il nostro pane quotidiano, Padre. Tu pane vivo, tu nettrino, per sempre in te. E tu in me, come un cielo così in terra, come un cielo così in terra. Pater nosterque sinceris, santificetur nome tu. Avveni al regno tu, fiat volontà tua, sicuti in cielo e in terra. Da Libro di Cielo, volume decimo, capitolo 20, 16 maggio 1911. Le membra della Chiesa, e specie chi sta in posto ed in altezze di dignità, hanno gli occhi abbacinati e travedono di molto, tanto che giungono a proteggere i finti virtuosi ed opprimere e condannare i veri buoni. Questo mi dispiace tanto, vedere quei pochi, veri miei figli sotto il peso dell'ingiustizia. Quei figli da cui deve risorgere la Chiesa e ai quali io sto dando molta grazia per disporli a ciò. Io li vedo messi di spalle al muro e legati per impedire loro i passi. Questo mi vuole tanto che mi sento tutto furore per loro. Senti figlia mia, io sono tutto dolcezza, benigno, clemente e misericordioso, tanto che per la mia dolcezza rapisco i cuori. Però sono anche forte da stritolare e incenerire coloro che non solo primano i buoni, ma giungono ad impedire il bene che vogliono fare. A tutti i piangi secolari, ed io piango le piaghe dolorose che sono nel corpo della Chiesa, che mi dolorano tanto da oltrepassare le pieghe dei secolari, perché mi vengono dalla parte da cui non me l'aspettavo e che mi fanno disporre a far inveire i secolari contro di loro. Capitolo 21, 19 maggio 1911 Continuando il mio solito stato, il mio sempre amabile Gesù si faceva vedere tutto afflitto ed io mi stavo intorno a lui tutto a compatirlo, ad amarlo, abbracciarlo e consolarlo con tutta la pienezza della confidenza. Ed il mio dolce Gesù mi ha detto Figlia mia, tu sei il mio contento. Così mi piace che l'anima si dimentichi di se stessa, delle sue miserie. Si occupi solo di me, delle mie afflizioni, delle mie amarezze, del mio amore e con tutta confidenza se ne stia attorno a me. Questa confidenza mi rapisce il cuore e mi inonda di tanta gioia perché come l'anima dimentica tutta sé per me così io dimentico tutto per lei la faccio una sola cosa per me e giungo non solo a darle ma a farle prendere ciò che io vuole. Al contrario, l'anima che non dimentica tutto per me ha anche le sue miserie e se ne vuole stare intorno a me con tutto rispetto con timore e senza la confidenza che mi rapisce il cuore è come se volesse stare con pauroso ritegno con me e tutta circospetta a questa dare niente do e niente può prendere perché manca la chiave della confidenza della scioltezza della semplicità cose tutte necessarie io per dare e lei per prendere quindi con le miserie viene e con le miserie resta capitolo 22-24 maggio 1911 stavo pensando all'incomprensibile grandezza e sapienza divina che nel dare a noi i suoi beni lui non scema niente anzi pare che lui col dare acquista la gloria che gli dà la creatura per l'avere ricevuto i beni dal Signore ed il benedetto Gesù nel venire mi ha detto figlia mia anche tu possiedi questa dote non nel corpo ma nell'anima che ti è stata comunicata dalla mia bontà di fatti col cercare di infondere nelle anime il bene la virtù l'amore la pazienza la dolcezza tu non scemi punto anzi con l'infonderli negli altri se vedi che quelli profittano tu ne godi un compiacimento maggiore onde ciò che tu sei per grazia nell'anima io sono per natura e non solo dei beni di virtù ma di tutti i beni possibili naturali spirituali e di qualsiasi genere bellissime e articolate queste considerazioni di Gesù e soprattutto di vario genere trattano aspetti ben precisi ben distinti e come sempre fanno capire parte delle modalità di operare di Gesù e quindi come interfacciarsi con questi suoi modi ed anche specialmente l'ultimo capitolo che abbiamo letto alcuni aspetti proprio intrinseci della vita di Dio che in qualche modo sono a noi partecipati per grazia e ne possiamo fare in maniera anche abbastanza semplice esperienza sempre andando con ordine Luisa pregava come ogni buon cristiano e anche noi dobbiamo pregare che il Signore confondesse i nemici della Chiesa e la risposta che dà Gesù è piena di sapienza perché alza un velo su alcune cose che a noi ci appaiono sempre perché siamo intrisi di vedute umane e di volontà umana a volte un po' strani noi vedendo tante cose che non funzionano nella Chiesa pensiamo subito ma se intervenisse il Signore e se ripulisse un po' subito la sua aia e tutti splendessimo felici e contenti sarebbe molto meglio per tutti per la Chiesa e per il mondo discorso che apparentemente non farebbe una piega solo che c'è un problema ma c'è sempre questo grande problema un problema ovvio ma che noi uomini fatichiamo a metterci in testa problema molto più ampio di quanto sembra dalle parole di Gesù cioè che noi non sappiamo tante cose e tra l'altro in questa società dove sembra che sappiamo tante cose perché telegiornali a tutte le ore a tutte le minute a tutti i minuti notifiche che ti arrivano da questo mondo e da quell'altro in continuazione sui telefoni con le news dell'ultimo minuto aggiornate eccetera eccetera social network tra twitter facebook google più e tutte queste cose qui sembriamo informatissimi ecco aggiornatissimi all'ultima ora ma non pensiamo mai una cosa a parte che noi non conosciamo quasi nulla nonostante tutta questa abbondanza in confronto a ciò che è ma che nelle notizie ci arrivano tutte quante parziali falsate tutte quante intrise delle opinioni soggettive personali di chi le trasmette d'accordo questo è facilissimo constatarlo quindi una persona pubblica chiunque essa sia sta simpatica a un tizio che cosa metterà in giro se questo è un tizio della comunicazione di questa persona pubblica le cose buone che fa esaltandole e a volte anche dandogli un clamore superiore a quello che merita non metterà in giro quasi nulla delle cose meno negative che fa e se qualcun altro le mette in giro troverà il modo di fargli l'avvocato difensore tutto e per tutto ma chi è che sa perfettamente come stanno le cose cioè chi è che conosce fino in fondo quella persona e se quella persona è buona o cattiva punto e basta io a mio avviso nessuno fra gli esseri umani lo conosce soltanto il Padre Eterno perché noi mortali viviamo e alcuni filosofi c'erano arrivati pensiamo alle pagine stupende che ha scritto Platone sui simulacri il fatto che tutto quello che noi vediamo è ombra e apparenza ma la realtà profonda delle cose non riusciamo a vederla non è una visione pessimistica sono considerazioni che fanno riflettere allora non vedendo noi la profondità delle cose è chiaro che non comprendiamo le dinamiche e perché e alcuni perché sappiamo dagli scritti che a Dio non si chiede perché e che la canzone del perché si canta all'inferno perché è così perché per darti tante spiegazioni dovresti conoscere tante cose e tante cose in questo mondo è meglio non conoscerle questa è la risposta allora si vede la Chiesa afflitta dai suoi nemici dai suoi persecutori sofferente si ricordino queste parole di Gesù io devo purgarla la mia Chiesa queste considerazioni che fa Gesù attenzione non autorizzano nessuno a accodarsi ai cori oggi provenienti da più parti dentro e fuori da destra e da sinistra chi critica in un modo chi critica in un altro chi critica l'uomo di Chiesa Y perché è troppo progressista chi critica l'altro uomo di Chiesa Z perché è troppo dall'altra parte andando a fomentare litigi discordi chiacchiere polemiche divisioni eccetera eccetera noi dobbiamo semplicemente pensare che il nostro Signore sa quello che fa noi dobbiamo pregare certamente non possiamo avere gli occhi chiusi d'accordo quando appaiono certe cose oggettive ne prendiamo atto ci soffriamo e ci preghiamo se ci si può fare evangelicamente qualcosa senza che per fare qualcosa contribuisca a fare altro male alla Chiesa a diffondere altro male benissimo ti può parlare col diretto interessato di certe cose ti può segnalare dei problemi realmente gravi oggettivi alle autorità competenti a risolverle anche dentro la Chiesa queste sono cose che si possono sempre fare quello da cui bisogna stare sempre attenti è cominciare a codarsi ai cori di gettare fango contro altre persone anche se esternamente avendo i comportamenti per usare un eufemismo discutibili eccetera eccetera ricordando sempre il monito di San Paolo circa la carità ecco che la carità tutto sopporta la carità tutto copre nel senso attenzione non di coprire il male del prossimo perché non perché non sia conosciuto e punito nelle sedi opportune si baglia e si ripeta ma non serve sbandierarlo ai quattroventi o quantomeno non serve metterci il nostro carico ulteriore allo sbandieramento ai quattroventi che quando la divina volontà o in certi casi la divina giustizia lo ritiene opportuno non ha nessuna difficoltà a fare in modo che ciò accada lo dice Gesù io sono tutta dolcezza benigno clemente e misericordioso tanto che per la mia dolcezza rapisco i cuori ma però sono anche forte da stritolare e incenerire coloro che non solo primano i buoni ma giungono ad imperire il bene che vogliono fare questo ci dà anche grandissima consolazione perché Gesù tiene in mano le redini della carrozza e dei cavalli che la conduca quindi lui sa quello che fa certamente come poi specifica nel paragrafetto successivo una cosa importante che pochi fanno è pensare questo l'abbiamo visto anche nella mediazione precedente a come consolare a come riparare il cuore di Gesù tanto offeso da queste cose mi dolorano tanto le piaghe dolorose che sono nel corpo della chiesa da oltrepassare le piaghe dei secolari perché mi vengono dalla parte da cui non me l'aspettavo e che mi fanno risporre a fare invece i secolari contro di loro si vede benissimo per esempio nelle ore della passione durante l'episodio del riniegamento di Pietro il dolore di Gesù e come l'offerta di quel dolore ripaga i peccati commessi da tutti d'accordo anche dai capi della chiesa che non sono tutti sempre comunque necessariamente perfetti e che possono mancare in molti modi questo è il primo a riparare noi possiamo e dobbiamo se vedessimo qualcosa riparare e consolare il nome di Gesù ecco il cuore di Gesù ma fare sempre attenzione primo a non disperare a non drammatizzare perché Gesù sta dicendo io se volessi potrei confondere i nemici della chiesa potrei fare in modo che tutto sembri bello ma sono io a discernere e a decidere quali sono i momenti in cui anche permettendo delle tribolazioni faccio uscire delle piaghe che devono essere purificate devono essere purgate questo è un punto fondamentale che riguarda non solo la vita della chiesa ma anche la nostra vita personale cioè che chi se ne prende cura e chi dispone gli eventi i fatti della nostra esistenza ad un fine buono e di salvezza per noi è Gesù e come ci sono gli uomini che sbraitano e si affliggono e si risperano e si angosciano perché vedono ma ridotta la chiesa così tanti uomini si angosciano si deprimono quando vedono la propria vita magari costellata di prove chi ci pensa qualche volta che Gesù sa quello che fa e che non è il primo stolto dell'universo insomma o uno che non ci può fare niente vuol dire ci posso fare ma se non ci fa vuol dire che non ci vuole fare e se non ci vuole fare vuol dire che quello che a te sembra un male è un male se lo fosse necessario oppure realmente male non è anche se tu lo percepisci come tale ecco poi Gesù parla di una cosa molto importante noi generalmente consideriamo quasi come alternativi due comportamenti che sono in realtà complementari compresenti nel nostro rapporto con Gesù ossia Gesù è Dio e come tale va adorato va pregato va trattato con di verenza va rispettato ma Gesù è anche colui che ci ama infinitamente colui che ci è immensamente vicino colui che ci ricolma di bene colui che ci tratta come perla preziosa come prodigio come cosa unica colui che è tutto amore per cui insieme alla riverenza lo dice lo stesso Gesù è necessaria anche la chiave della confidenza ed anche una certa scioltezza nel trattare con lui santa scioltezza d'accordo qui come sempre dentro la nostra anima e dentro i nostri modi di relazionarci con Gesù e ascoltando bene il nostro cuore e i dettami della nostra coscienza dobbiamo imparare appunto l'equilibrio ma Gesù ama un'anima confidenza è un'anima sciolta perché se uno sta lui dice con pauroso ritegno e tutto circospetto timore senza confidenza e solo rispetto a questo tale io non do niente e niente può prendere quindi con le misere viene e con le misere resta come sempre per noi esseri umani è facilissimo ecco perché la virtù è difficile ed ecco perché sempre Gesù spesso ribadisce dentro questi scritti l'ordine l'armonia l'equilibrio perché è facilissimo deviare da una parte all'altra o come in questo caso qui c'è anche il contesto storico no? 1911 ancora insomma c'era un forte senso di Dio ancora se si leggono anche i testi e si entra in quella cultura cioè di Dio c'era un grande timore troppo a volte c'era una iper considerazione della sua pur vera giustizia e santità e maestà oggi è facile che ci sia un eccesso contrario attenzione ma un eccesso contrario inteso in senso negativo perché la sana e santa confidenza e scioltezza sono cose che quando sono autentiche la portano dentro con sé l'adorazione comunque dovuta al Signore l'esempio perfetto di questo è Maria Santissima chi è che può pensare che Maria Santissima non fosse la perfetta adoratrice del suo Dio e figlio eppure sia per ufficio materno sia anche per la sua missione di ancella e sposa di Dio possiamo immaginare la confidenza e l'intimità che aveva con Gesù quindi deve essere lei la nostra guida e un'altra cosa che Gesù raccomanda oltre il fatto che appunto la confidenza lo rapisce perché la confidenza è un atto di fede e di attestazione della bontà di Gesù che è la sua dimensione primaria e come dire secondo il nostro modo di parlare più autentica Gesù vorrebbe essere sempre solo così e quando non è così quindi che deve essere anche altro lo fa non volentieri anche se in forza della giustizia divina lo deve fare dietro questa confidenza c'è un atteggiamento di fondo ricorrente negli scritti che è la dimenticanza di se stessi sotto tutti i punti di vista non soltanto dimenticarsi di sé e quindi dei propri gusti dei propri desideri dei propri egoismi eccetera eccetera ma dimenticarsi anche dice Gesù delle proprie miserie delle proprie miserie dimenticare tutto anche le sue miserie lo dice due volte diciamo come faccio a presentarmi davanti a Gesù che sono pieno di imperfezioni di debolezze di appunto di miserie di peccati di incomprensioni di incapacità ecco dimenticati anche di quello perché tutte queste cose Gesù le sa non è che non le sa le sa già se vuole in te essere un rapporto d'amore con uno che è tutto miseria lascialo fare ricordo ricordi ancestrali da bambino quando l'essi dietro un'immagine di Gesù misericordioso un componimento che se non ricordo male era di Monsignor Lebrun ti chiamava Amami come sei a un certo punto Gesù dice io voglio che dai cenci salga continuamente un grido Gesù ti amo non ti preoccupare della tua miseria conosco io so già tutto ecco questo si fa comprendere come appunto le chiavi dell'amore della confidenza della soluzione anche della semplicità dice Gesù un modo di relazionarsi con Gesù semplice parlaci parliamoci ecco come come un amico parla con un amico non insegniamo tanti maestri di spirito come un figlio che si sente amato parla al padre o alla madre in Dio è presente anche quella splendida dimensione protettiva materna femminile ecco e con concioggio su prende da noi la consolazione immensa l'amore immenso la confidenza che lo glorifica e ci apre tutti quanti i tesori delle sue grazie si realizza attraverso queste disposizioni il gioco dell'amore ecco che è quello prediletto da Gesù infine Gesù fa una fa un esempio empirico perché lui sapete quanto è bello quanto è importante no a volte pensare e contemplare cosa che gli uomini fanno poco ecco perché è così importante importantissima la cura della dimensione del silenzio della vita interiore magari ecco imparassimo tutti a fare più silenzio per poter appunto contemplare ascoltare ascoltarci riflettere comprendere tante cose ciò che è impossibile se uno non si ferma mai e sta continuamente in iperattività ecco lavorativa ricreativa alimentare eccetera allora stava pensando e dice ma guarda è grande Dio lui dà infiniti beni dà tutti i suoi beni e non diminuisce mai dà senza diminuire no cioè se io ho un sacco di soldi e do tanto me li trovo senza perché i soldi poi finiscono per questo che gli uomini danno poco perché hanno paura che finiscono ecco questa però è una legge che vale per le cose materiali ma non per i beni immateriali almeno per quanto riguarda il nostro lente creato per esempio se noi dice Gesù no se tu cerchi di infondere nelle anime il bene la virtù l'amore la pazienza la dolcezza non è che tu diminuisci anzi se vedi che questi beni poi si formano negli altri ne godi un compiacimento maggiore e non è che se tu tratti dolcemente una persona quindi la edifichi con l'esempio della dolcezza e poi magari è l'occasione di farci un discorsetto in cui tessi l'elogio di questa virtù un elogio come dire autorevole perché appunto non è contraddetto dalla tua vita e la persona comincia piano piano a stimare questa virtù e a deporre un pochino di atteggiamenti aspidi belligeranti taglienti o cose di questo genere se tu te ne accorgi sarei ben felice ecco tu che sei per grazia nell'anima io lo sono per natura con la differenza che in Dio questa comunicatività infinita nel dare che nulla gli diminuisce si estende come Gesù spiega tutti i beni possibili naturali spirituali e di qualsiasi genere Dio è munificentissimo quindi dona dona e dona senza perdere nulla questo è anche uno sprone insomma comprendere la bellezza ecco della legge dell'amore di carità ecco chi non perde ma più dona e più riceve anche qui supplicisce e ci ricorda la massima evangelica chi ha sarà dato a chi non ha a chi non ha sarà tolto anche quello che crede di avere a chi impiega i talenti vengono moltiplicati a chi sotterra i talenti non vengono moltiplicati e vengono spiegati anche quelli che aveva e vengono tolti per dare a chi ha a chi non ha o Santa Vergine Maria non cedeci la grazia ottieneci la grazia ecco di situare nei santi ambiti della confidenza della semplicità della scioltezza del nostro rapporto con Gesù di un abbandono fiducioso e pieno consapevole della sua onnipotenza e del controllo che ha sulla nostra storia sulla storia della Chiesa sulla storia dell'umanità e sempre più fermi decisi e convinti nel dare nel dare nel darsi e nel darci entrando pienamente in questa logica evangelica ecco nella consapevolezza che abbiamo questa giornata terrena per moltiplicare quanto più possibile le opere sante da offrire al Signore perché si tornino a suo tempo in gloria maggiore nel cielo nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Fiat Ave Maria